. Prende la rincorsa, palla dentro, primo palo. Gardema è gol! 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 Ciccio Gardema! Copazzini servito da Putinho sulla corsa per Nagatopo entra in area, ripallo, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, iuto, iuto. Pennellata al centro, attenzione, arriva Gianni, 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 Gianni. Il colpo di tacco d'Ambro è solo, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol. Eccolo che viene servito, morbida, sul secondo palo, a capirezza, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol. C'è il cross, secondo palo, arriva Don Fritz, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol.